Grande festa sabato sera al Tagliercio dove gli Oro Granata hanno portato a casa un ottimo risultato, non senza difficoltà. Noi non abbiamo mai dato l'impressione di avere in mano la partita. Primo tempo abbiamo sofferto in modo esagerato a rimbalzo, perché ci hanno preso 15 rimbalzi offensivi. Nel secondo tempo siamo andati meglio, abbiamo lavorato meglio di squadra, alla fine il computo totale dei rimbalzi è tornato in parità ed è quello che ci ha permesso di sopportare anche le percentuali da tre che nel secondo tempo si sono ridotte di parecchio. Con un punteggio finale di 90-77 la Reiera ha comunque portato a casa la vittoria, mantenendo per una notte il secondo posto in solitaria. Onore a Trento che non si è mai arresa. Dobbiamo fare i complimenti a Trento perché ha reagito dopo i primi nostri dieci minuti, potevano anche lasciarsi andare, invece hanno reagito, ci hanno creduto. Ci hanno creato non pochi problemi, paradossalmente l'assenza di Pascolo ci ha creato problemi difensivi.